Buongiorno e buona domenica, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Iniziano le vaccinazioni per chi ha più di 18 anni. A partire da domani avvia le prenotazioni e poi si potrà anche già vaccinare. Si sono intercorsi cinque mesi dalla seconda dose. Questa è una delle novità della settimana che sta per iniziare. A breve capiremo quali sono le modalità e a chi può essere interessato da questa novità sanitaria. Però dovremmo anche parlare di coronavirus e del bollettino quello più recente, cioè quello riferito a ieri perché siamo in attesa di quello odierno, ma in quello di sabato si sono registrati quattro decessi mentre sono diminuiti i nuovi casi positivi. Faremo il punto a brevissimo. E poi parleremo anche però di consorzi bonifica di Ferrara perché il Presidente è intervenuto e ha detto che non ci sarà nessun aumento di contributi il prossimo anno. Questo è un tema molto attuale alla luce degli aumenti di bollette, di gas e di altri beni. In questo caso invece la bonifica ha già anticipato che non sono previsti aumenti. Ma in questa edizione parleremo anche di politica con il futuro della provincia di Ferrara. Si sta delineando una corsa a due per il dopo, il dopo vicepresidenza di Minarelli. Quindi ci sono il sindaco di Mesola, Padovani, il sindaco di Copparo Pagnoni in corsa al momento. Ma è anche oggi il giorno dopo di Cosenza Spal, Spal che torna dalla Calabria con un 1-0. Ho firmato Pepito Rossi una vittoria importante di cui parleremo anche domani sera durante il lunedì sport con Alessandro Sovrani. Alessandro Sovrani che sentiremo a breve e nel corso della giornata sentiremo anche le parole dell'allenatore Bianco Azzurro Clotet. Ma è stato il giorno ieri dell'accensione delle luminarie natalizie in centro a Ferrara. Sono iniziate così le iniziative che ci condurranno al Natale e al Capodanno con il relativo incendio del castello. Quindi ieri prima iniziativa, accensione delle luminarie, l'8 dicembre l'accensione dell'albero. Ma vediamo le immagini di un sabato pomeriggio speciale per il centro di Ferrara. Ferrara ha acceso le luminarie. Alle 17 di sabato 27 novembre le vie del centro storico sono state illuminate da oltre 100 km di strisce luminose a LED. Tra le novità dell'edizione 2021, l'illuminazione di Viale Cavour nel tratto che indicativamente unisce il castello Estense all'area del Grattacielo. Altra nuova zona interessata dalle scenografie natalizie è quella di Via Lucchesi nell'area dello shopping. Si tratta di luci, garantiscono tramite un comunicato, a basso consumo energetico. E ora appunto parliamo di situazione coronavirus da domani, da lunedì, al Via Ferrara, nella provincia Estense. Come in tutta Emilia Romagna, la terza dose di vaccinazione anti-Covid per la fascia di età tra i 18 e i 39 anni. Ricordiamo che gli over 40 già da tempo possono prenotarsi e vaccinarsi. Ecco allora tutte le modalità per prenotare, messe a punto dall'azienda USL di Ferrara, anche per evitare gli assembramenti che si sono registrati in questi giorni. Aumentano infatti anche le persone che si stanno vaccinando con la prima dose. Sentiamo. Anche a Ferrara e provincia dal lunedì 29 novembre sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid con la terza dose per le persone in fascia di età 18-39 anni che abbiano effettuato la seconda dose da almeno 150 giorni. L'azienda USL di Ferrara ha già messo a punto tutte le modalità per prenotare, anche con l'obiettivo di gestire le lunghe code che in questi giorni si sono registrate davanti agli hub vaccinali. È alta infatti l'adesione alla campagna non solo per le terze dosi, ma anche per le prime, il cui numero è tornato a crescere. In conseguenza, per garantire un accesso più ordinato alle sede vaccinali, evitando lunghe code e soprattutto assembramenti, l'azienda sanitaria territoriale, oltre a raccomandare di prenotare la vaccinazione, per necessità ha deciso di limitare l'accesso diretto solo in determinati orari e a un numero limitato di persone al giorno, a seconda della capienza delle sedi. L'accesso diretto sarà inoltre regolato attraverso un distributore di numeri e la presenza di personale di supporto volontario. Di conseguenza, da martedì 30 novembre, l'accesso diretto alla vaccinazione sarà possibile presso l'hub vaccinale di Ferrara Fiere dalle 8 alle 13, dalle 14 alle 19, presso l'hub di Codigoro dalle ore 14 alle 15 e 30, presso l'hub di Comacchio dalle ore 8 alle 9 del mattino, in altri orari e dopo l'esaurimento dei numeri, l'accesso diretto non sarà più ammesso. I canali per prenotare la vaccinazione sono i soliti, tramite tutti gli sportelli dei centri unici di prenotazione, i CUP, presso le farmacie territoriali aderenti, online con il fascicolo sanitario elettronico, l'applicazione ER Salute, il CUP web, tramite prenotazione telefonica, al numero verde 800 532 000 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13. E inoltre è possibile recarsi dal proprio medico di famiglia o in farmacia, qualora aderisca la vaccinazione, prendendo contatto direttamente con loro per le modalità operative. Inoltre l'azienda USL procederà all'invio graduale ad alcune specifiche fasce di cittadini individuate per età, un SMS con l'appuntamento per la vaccinazione. Anche costoro possono comunque provvedere a prenotare la vaccinazione e in caso di arrivo dell'SMS annullare l'appuntamento ricevuto. Ma qual è la situazione coronavirus sul nostro territorio? Allora siamo in attesa dei dati aggiornati quelli odierni, ma vediamo quali sono i dati più recenti del bollettino coronavirus. Sono calati rispetto a venerdì i contagi da Covid nel bollettino in provincia estense dove però si registrano quattro nuovi decessi. Si tratta di una donna di Mesola di 91 anni, un uomo di Codigoro di 85 anni, di un ottantenne di Ferrara, di un uomo di 66 anni sempre di Ferrara ma originario della Toscana ed è un noto ristoratore del centro estense. Sale quindi a quasi mille il numero delle vittime per complicazioni da Covid registrate nel Ferrarese da inizio pandemia. Nella giornata poi di venerdì 16 novembre sono stati 70 i nuovi casi da Covid, 37 il numero dei nuovi guariti, questi comunicati dal Dipartimento di Sanità Pubblica. Poi se guardiamo la situazione ospedaliera, il bollettino segnala quattro nuovi ricoveri in ospedale a Cona, al Sant'Anna, sono 54, quindi posti letto occupati sui 60 disponibili. In terapia intensiva ci sono sette posti letto sugli otto attivati. Ricordiamo che qua è stato registrato un leggero decremento rispetto ai bollettini precedenti all'ospedale del Delta di Lago Santo con 10 persone ricoverate per positività al virus, tutti occupati, posti letto attivati per il Covid che sono appunto al momento occupati. E la campagna vaccinale a Ferrare, provincia, come sta andando? Venerdì sono state più di 2.400 le dosi di vaccino somministrate dall'inizio della campagna, più quasi 282.000 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose, più di 256.000 quelli che hanno ricevuto la seconda. Ci stiamo avvicinando alle 45.000 persone che hanno ricevuto la terza dose addizionale, detta anche in alcuni casi booster. E ora cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché era in possesso di un Green Pass non valido, probabilmente falsificato e per evitare il controllo a offerto del denaro ai carabinieri infilando delle bancanotte tra i documenti di identità per lasciarsi così la possibilità di proseguire nel viaggio. Per questo motivo un uomo di 48 anni di nazionalità a Moldava è stato arrestato. È successo ieri mattina vicino a Migliarino durante alcuni controlli da parte dei carabinieri che hanno fermato il furgone con targa straniera che trasportava merci di vario genere. L'autotrasportatore è stato arrestato per il reato di istigazione alla corruzione mentre sono in corso le verifiche circa la falsificazione del Green Pass. E come anticipato in apertura nonostante l'aumento dei costi energetici e le materie prime il Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara non aumenterà la quota dei contributi per il prossimo anno ed aumenterà il numero delle giornate per irrigare quanto deciso venerdì dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente che ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022. Allora sentiamo il Presidente Stefano Calderoni. È un bilancio che approviamo in un contesto molto complicato, un contesto pandemico e soprattutto un contesto dove l'aumento delle materie prime incederà in maniera significativa su quelle che sono le risorse che noi riusciremo a mettere a disposizione. È chiaro che per il Consorzio di Bonifica che è un ente energivoro oltre 5 milioni di euro del nostro bilancio sono investiti in energia elettrica che serve banalmente per sollevare, per portare l'acqua a mare, per portare l'acqua alle imprese agricole. Quest'anno però purtroppo questo aumento dei costi energetici peserà in maniera significativa sul nostro bilancio per circa un milione e mezzo di euro, ma noi abbiamo adottato una scelta straordinariamente coraggiosa mi viene da dire, cioè in un momento così difficile non ci potevamo permettere di trasferire ulteriori costi a famiglie di imprese. Quindi questo milione e mezzo in più di costi che noi vedremo sul nostro bilancio in qualche modo lo risparmieremo attraverso un efficientamento del sistema. Quindi quello che vorremmo cercare di fare, in una piccola parola, fare di più con le stesse risorse di prima. Quindi abbiamo approvato un bilancio senza chiedere aumenti degli oneri consortili, quindi i cittadini e imprese pagheranno quello che pagavano negli anni passati, ma in più metteremo a disposizione ben 20 giorni di irrigazione in più per gli agricoltori. Oggi l'agricoltura è cambiata, le esigenze, i piani culturali, insomma noi dobbiamo essere a passo coi tempi. Politica adesso, sono due al momento i candidati alla presidenza della provincia di Ferrara. Le candidature e le liste dovranno essere presentate entro oggi a mezzogiorno. Sono state chiuse quindi le possibilità di correre per la presidenza della provincia di Ferrara. Le elezioni si terranno il sabato prima di Natale, insomma pochi giorni prima di Natale, sabato 18 dicembre. Ma sentiamo e facciamo il punto in Castella Estense, dove è a sede l'ente della provincia estense. Sono elezioni di secondo grado, a votare saranno i sindaci e consiglieri comunali in carica della provincia di Ferrara e si terranno sabato 18 dicembre. Sono le elezioni provinciali che al momento vedono la candidatura di Michele Padovani, sindaco di Mesola, con una lista di centro-sinistra, e la candidatura di Fabrizio Pagnoni, sindaco di Copparo, con una lista di centro-destra. Il presidente della provincia viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia e dura in carica 4 anni. Sono elegibili a presidente tutti i sindaci della provincia estense. Il consiglio provinciale, che dura invece in carica 2 anni, è composto dal presidente della provincia e da 12 componenti ed è eletto da sindaci e consiglieri comunali dei comuni della provincia di Ferrara. Sono elegibili a consigliere provinciali sia i sindaci che i consiglieri in carica. L'elezione del presidente della provincia avviene poi sulla base di presentazione di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Quella del consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 6 e non superiori a 12 e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Le operazioni si svolgeranno nel seggio che si costituirà presso la sede della provincia di Ferrara, ovvero il Castello Estense, in Sala Agnani, dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 18 dicembre e lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio. Sport adesso Spal che ieri in trasferta ha battuto il Cosenza per 1-0. Pepito Rossi, chiamato dopo l'intervallo da Clottet a sostituire un esausto Colombo, ha regalato alla Spal la prima vittoria della sua storia sul campo calabrese del Cosenza. Tre punti che portano i ferraresi fuori dalla zona play-out, quindi anche il ritorno di Rossi al gol è stato celebrato a livello nazionale, era molto atteso. Sentiremo nel corso della giornata Clottet a fine partita, poi vi ricordo domani sera lunedì sport e poi martedì sera match per la Spal che torna in campo. Ma sentiamo Alessandro Sovrani a fine partita contro il Cosenza. Sentiamo. Colpo di testa di Pepito Rossi su angolo calciato dalla sinistra di Spolito al 14esimo della ripresa ha regalato a Spal uno storico successo sul campo del Cosenza, dove i bianco-azzurri nella loro storia mai avevano fatto bottino pieno. Gombriamo il campo da qualsiasi dubbio, alla termine dei 90 minuti risulta meritato il successo della formazione di Pepe Clottet che questa sera ha 5 squadre alle spalle per cui è fuori dalla zona play-out, infatti sale a quota 17, supera 2 punti il Cosenza, quindi a 14 troviamo l'Alessandria, poi alle spalle di queste squadre ci sono anche Crotone, prossimo avversario dei bianco-azzurri dopo il match interno di martedì alla Mazza con il Lecce, Vicenza e Pordenone. Una Spal che è Clottet un po' a sorpresa, schierata inizialmente con il 4-3-3, escluso Mora mentre aveva trovato spazio nella linea dei tre attaccanti, se che ha giocato a sinistra, lui opposto era stato impiegato Colombo con Melchiorri per centrale. una Spal che in realtà nel primo tempo ha un po' faticato, ha sofferto soprattutto gli inserimenti sulla corsia mancina di Esito, ma è anche giusto sottolineare come rali siano stati pericoli corsi da secoli. Al 18esimo minuto, anzi è stata la formazione ferraresi a rendersi pericolosa, con Secchi che ha scambiato con Deriva, oggi ha il debutto stagionale nei minuti iniziali così come Celia, poi è andato alla conclusione, ma il sud diagonale da buona posizione è terminato a lato di poco. Nonostante la superiorità, la soppermazia territoriale espressa dal Cosenza, era ancora alla spalla a creare le azioni più pericolose, il Cosenza si è fatto via solo con una conclusione di Siculum, bloccata in due tempi da secoli, ma a nove minuti dal riposo, buona opportunità per la formazione ferrarese con il cross di Merchiorri dalla sinistra, colpo di testa ravvicinato di Secchi con il pallone respinto dal portiere Vigorito. Cambi all'inizio ripresa e poi sono risultati determinanti, in particolar modo quello di Rossi che ha preso il posto di un esausto Colomba, chiaramente l'ex attaccante del Milan sta pagando gli sforzi continui in questo via di stagione, sempre titolare, poi anche impegni con la nazionale Under 21, in vista pure delle match di martedì, giustamente il tecnico Spallino Pep Coltetta ha deciso di dargli un po' di riposo, è entrato anche in sostituzione di secoli che probabilmente ha sentito riaccutizzarsi del problema muscolare che ne aveva tenuto in dubbio il suo impiego oggi tra i pali della formazione ferrarese Demba-Tiam. Spall che partiva subito, meno in apertura di ripresa, al quinto minuto Melchiorri trovava un buon corridoio per servire Mancoso che entriva in area rigore, costretto dai filaggi leggermente sulla destra, andava alla conclusione, pallone che veniva respinto con i piedi dal portiere Vigorito. Sul conseguente tiro dalla bandierina, dalla destra si incarica sempre Spolito, oggi a cercare di scutare queste situazioni vista l'assenza di Liviani, colpo di testa ravvicinatissimo da Riva, anzi di Melchiorri con il pallone che è terminato fuori di un soffio. Poi Brivido per la spalla, decimo minuto, rinvio sbilenco di Tiam che regalava il pallone a Palmieri, porta sguarnita, calciava verso il primo pallo dalla sinistra, il capitano della formazione di casa, buon per Tiam che non riusciva a centrare lo specchio della sua porta, palla che finiva sull'esterno della propria rete. Dopo quattro minuti il gol di Pepito Rossi, di cui abbiamo fatto accenno in apertura di servizio per dare maggior copertura alla sua squadra, poi entrava nella difesa a Spallina Peda, con poi il compito affidato a Dickman di salire a centrocampo, centrocampo, così erano sempre più intesati di spazi nella metà campo della formazione di Pep Clotet che non concedeva praticamente nulla ai tentativi del Cosenza, che si buttava in avanti a capobasso, ma non trovava quasi mai opportunità per imbensire traguardi a Spallina, l'unica opportunità ancora creata dopo un rinvio sbilenco di Tiam con la possibilità di involarsi nella sguarnita tra quanti campi ferrarese perché tutti i giocatori della squadra ospite si alzavano Gori, però grazie alla copertura di Capcadossi, oggi grande partita la sua e anche all'uscita dello stesso Tiam, Gori non trovava lo specchio della porta avversaria. Nell'inspirato assalto finale c'era da segnalare un casatero di Venturi con la palla che terminava da un lato di poco rispetto al palo destro della porta Spallina poi a sette minuti dal novantesimo Palmiro provocava impinare di rigore lì a due passi dove c'era il direttore di gara Maresca Vicari che commetteva un'ingenuità praticamente appoggiava la sua fronte su quella del capitano del Cosenza e arrivava quindi in rosso pesante perché certamente Vicari non ci sarà anche martedì con il Lecce. Poi assalto Vano da parte del Cosenza tutti davanti, la sua chiudeva bene tutti i varchi in questa frangente, in questa situazione tattica emergeva l'esperienza e il mestiere di Mancoso che dava manforte ai suoi in fase di copertura, entravano anche More e Zucculini altri due giocatori che di esperienza ne hanno davanti e la sua usciva poi a condurre in porto questa preziosa vittoria per gli effetti che ha sulla classifica ma anche sul morale dei bianco-azzurri. Come detto in precedenza, vittoria meritata, vittoria storica perché qui a Cosenza la spalla non ha mai vinto sì, il Cosenza ha mantenuto soprattutto nel primo tempo una discreta supremazia territoriale ma ad onore del vero non ha mai impensierito prima secoli e poi Tiam se non sui due, nelle due occasioni in cui il coppio all'estremo difensore della formazione bianco-azzurra ha regalato palloni con rinvii imprecisi agli avversari. Vittoria che tonifica logicamente il morale della truppa di Peppe Clotet in vista della gara di martedì alle 20.30 con la corazzata Lecce-Almazza. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e buona domenica. Grazie a tutti.